Questa mattina l'ospedale Cattinara di Trieste è partita la vaccinazione di massa di tutto il personale dell'Università degli Studi, professori, dottorandi e specializzandi. La vaccinazione è un momento fondamentale, di questo rientro in sicurezza, 970 persone saranno vaccinate entro domani sera. Penso che sia importantissimo per la collettività, è bello che si parta dall'Università anche per dare un segnale alle nuove generazioni. Per me è importante vaccinarsi, in primis per proteggere se stessi e poi ovviamente per proteggere la comunità.